Ah, mitico combini ragazzi Eeeh, un po' d'armelon Questo è il reparto a gelati Le fettuccine, tipo caramelle alla bocca di coca cola, però no, le reparto caramelle Questi sono i mitici paninetti del combini Addog Dolce Cosa con la panna Ci abbiamo tutta una serie di di Moodles di Sì, lo so, dovevamo andare al giardino Ma prima devo passare per il combini Ah, eccolo qui il mitico panino con l'hamburger, ragazzi Del combino Del combino E' questo che mi sono promesso di provarlo Con il salmone Io lo provo Sì, 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 lo provo Questo è tonno e maionese E no, io prendo tonno e maionese, troverò Sembra tipo quello di Di Dragon Ball Guarda che c'è Dolcetti Vediamo un po' il reparto Che ci sta di strano? Queste palline sembrano bellissime E che ci sta? E sono Io ho provato a schiacciare Cioccolate e cini Si, si schiacciano tanto Per me secca sempre? Sì Per me secca E queste sono bustine di te Sono bustine di te però Qua sono tipo tutte Tipo Tipo Tick sliced beef Ah, queste invece sono soft Calamari squid E Polipo Con l'asceto Qua abbiamo tipo Sempre Calamari Ah, qua le patatine Le patatine sporche Patatine al gambero Piselli Sì Io Voglio prendere qualcos'altro Ho preso questo Mi ispira questo Pure la bomba Tre Tre Le faccio vedere mentre le apri Quindi sono Queste sono patatine al pisello Sì Mi immagino Come su? Assaggiamo Come su? Come su? Come su? Come su? Sono di pisello Come su? L'hai già aperte E? Che c'è? Ma prima di pagare? No, ho già parato Ah, e questo? Dai Uai, è proprio piselloso Non pagare? No, no, sono buone Questo che roba è invece Questo che roba è invece Guardatevi nel pisello ragazzi Ho rotto l'alga Però, vediamo Un po' Questo a turno In scatola Riso E' invece E' buono Un euro Ci sarà punta di wasabi Buono Sa di coppiette Sa di coppiette Sa di coppiette Maleodoranti Maleodoranti Ti sembra un po' di pesce anche seccarle No, ma tu prendi sempre le cose più schifose Bello Manzo secco È tipo coppietta Però con più spezie Più Gigi, è una ragazza Che mangia solo Pasqua Crede perché hai pigliato tu? E' la ragazza più ottusa del mondo E' riso Tonno E maionese E' lo stato a puntare E' una cosa strana per lei Questo invece è salmone E' buona E' buona Buona Però queste coppiette Secondo me la devi mangiare Allora ti lascio proprio E' che devi rientrare E prendere una bibita sgrassante E io rientro perché se no muoio Devo prendere una bibita sgrassante Ho fatto riscaldare? Ah Ragazzi ho preso uno spietino di pollo bianco Con bambù E carne Caldo Mmm A soli 138 yen E' buono? Buonissimo Come vedete C'è un po' di Di Anche di Mushrooms Di fungo E' bambuoso Buono 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 dai Puzzo un po' di Rimoste però Buono Andiamo al giardino eh No No Buono 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 Andiamo al giardino eh Bene Bella Bella Bella